Il pallone dentro, perde la morte, limite dell'area, lato dell'area di rigore, la cede per Ronaldo, Ronaldo 30 metri, la scarica da quest'altra parte per Costa che può andare al traversone con il sinistro, l'area di rigore, stacca Ferrari, gol, gol, Ferrari, ha segnato il loco, è loco, è 1-0 l'Ane, è 1-0 l'Ane, ha segnato il loco, ha segnato il loco sul traversone di Costa, è implacabile il loco, la palla tocca il palo e finisce in rete alle spalle di Donnarumma, è il Vicenza in vantaggio, lo scarico di Ronaldo per Costa, il traversone di Costa, è loco, palo gol, e ciao Padova, 1-0 per noi, 1-0 l'Ane. Spiazzato Donnarumma, che gol ha fatto, che gol ha fatto Ferrari, davvero bombe, davvero bombe, però è stata un'azione corale conclusa da un grande Ferrari. Strà meritato, guarda come si inarca Ferrari, come la mette sul secondo palo, non ci può arrivare nessuno lì, chiamate anche Buffon, ma non ci arriva nemmeno Buffon lì, perché Ferrari la mette dove nessuno ci può arrivare, su quel palo l'acqua, il palo lontano, dove basta toccarlo per andare dentro. L'estrema sinistra di Donnarumma, che non poteva fare niente comunque. E l'inquadratura la meritano tutti i nostri tifosi, i nostri 1.500 sugli spalti dell'Euganeo, che fanno festa, fanno festa insieme a noi, fanno festa. E ha dato la sotto Ferrari perché anche per lui è una liberazione trovare questo gol così importante. Se lo merita, se lo merita perché lo aveva già quasi trovato nel primo tempo, e lo aveva già quasi trovato nel primo tempo, però il Vicenza se lo merita. E i fumogeni, in curva dell'Ane, i fumogeni sopra la scritta Lannerossi, Lannerossi 1 a Padova, Vicenza che è in vantaggio per 1-0, e adesso tocca loro inseguirci, tocca loro provare a venire a farci male, e non li aspettiamo volentieri per ripartire. Riparte la partita.